Nominata dal commissario dell'Ulsa 7 Pedemontana Bortolo Simoni la nuova direttrice dell'unità operativa complessa cure primarie del distretto 1. Si tratta della dottoressa Cristina Velludo che guiderà tutto il comparto che si occupa nello specifico del coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, dei servizi di assistenza domiciliare integrata e dell'individuazione di nuove strategie in ambito di vaccinazioni e screening.